Torna la mostra d'Oltremare di Napoli dopo il successo dell'edizione 2016 che ha segnato il record delle 120.000 presenze Comic-Con, il Salone Internazionale del Fumetto, al via dal 28 aprile e fino al 1 maggio. Tema principale del festival sarà quest'anno il rapporto tra fumetto e web. L'obiettivo è di analizzare come i due media e i loro linguaggi si influenzino a vicenda. A rappresentarlo è il manifesto ufficiale disegnato dal magister Roberto Recchioni, curatore di Dilan Dog, che dopo Milo Manara e Silver è il protagonista della manifestazione. È un Comic-Con che parla e si rivolge principalmente al fumetto che nasce o si sviluppa sul web e alle forme di comunicazione attraverso i social e la rete. Sarà divertente, spero che riusciremo a provocare una bella reazione. Un grandissimo avvenimento culturale, uno dei più seguiti e con numeri di partecipazione davvero strabilianti. È il classico esempio che dimostra, credo in modo lampante ed inequivocabile, che la creatività può diventare anche un modo per fare impresa. Il fatto che tutto questo avvenga a Napoli nel mezzogiorno è per me davvero una testimonianza significativa che credo faccia giustizia anche di tanti luoghi comuni. Numerosi gli ospiti, le mostre e le anteprime che arricchiscono il programma di Napoli Comic-Con e novità nelle sezioni Cartoon Na, Game Con, Asian Village, Musica, Mercato e l'immancabile area di Comic-Con Kids dedicata ai più piccoli. Abbiamo cercato di lavorare sulla qualità del programma culturale, quindi cercando di lavorare in tutte e quattro le sezioni che compongono il Comic-Con, fumetto, gioco, videogioco, cinema e serie tv, con tutto quello che poi c'è di trasversale. Quest'anno abbiamo di nuovo tanti grandissimi ospiti, cominciando dal Magister Roberto Ricchioni, ma penso a Toyotaro, il nuovo disegnatore di Dragon Ball, Daniel Pennac che presenta una pièce tratta da un suo fumetto, o ancora per rimanere in campo letterario, Maurizio De Giovanni che presenta la serie con la Bonelli. Tanti ospiti internazionali, a cominciare da Koblish, il disegnatore di Deadpool, Nicolà De Cresì e poi nella sezione cinema e serie tv, che è quella che stiamo cercando di sviluppare, due grandi ospiti, Rachel Keller della serie Legion in collaborazione con Fox e per la prima volta un attore del Trono di Spade, Liam Cunningham Serdavos in collaborazione con Sky Atlantic.